Cittadino a Milano Il 21 marzo del 1951, l'ultimo giorno di scuola per quattordici bambini che stavano uscendo la scuola, scatenò il vento forte come adesso e i bambini cercando di faro acquattarono percorrendo questo marciapiede tutto questo muro di nuova costruzione. Ma fu proprio il muro a cui avevano un cercato di faro che crollò su di loro, spinto dal vento che veniva da dietro ed ecco appunto questa barca che ricorda quei portati sui bambini strappati alla vita, su questo muro che è stato ricostruito sulle macerie dell'Ado. 2 gennaio 2010, Maurizio Porombo, Milano 3 gennaio 2010, Maurizio Porombo, Milano 3 gennaio 2010, Maurizio Porombo, Milano 4 gennaio 2017, Maurizio Porombo, Milano Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.